Da Piazza del Ferrari a Genova, cuore della festa, alla Spezia fino a Imperi e tutto l'estremo ponente, passando per il Tiguglio. La Liguria ha dato il benvenuto al 2024 con le grandi feste in piazza a base di musica, DJ set e artisti che hanno intrattenuto le folle, accompagnando tutti al brindisi della mezzanotte. In 40.000 in Piazza del Ferrari a Genova, secondo gli organizzatori, per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Sul palco si sono alternati i veri e propri totem della musica italiana, da Albano a Orietta Berti, dagli articolo 31 a Ivana Spagna, ma anche Paolo Meneguzzi, Leo Gasman, Berna, Federica e non solo. La pioggia ha dato tregua giusto in tempo per la mezzanotte. Feste in piazza anche alla Spezia con la comicità di Dario Ballantini e la musica anni 90 degli Eiffel 65. A Savona è stato Enrico Ruggeri con le sue canzoni più famose a dare il benvenuto al nuovo anno. A Imperia lo spettacolo piromusicale tra brindisi e festa per tutti. Spettacoli e voglia di festeggiare in piazza anche in tante altre cittadine della Liguria, come a Chiavari, Rapallo, Portofino, Ventimiglia, Bordighera, Arenzano, Cogoletto, Sarzana e molte altre. Tra brindisi e voglia di lasciarsi alle spalle il passato, benvenuto 2024. Il primo dell'anno porta con sé oltre a brindisi auguri anche il triste bilancio dei feriti a causa dei botti di capodanno e la Liguria non resta esclusa. A Genova un 25enne ha subito l'amputazione di una falange della mano sinistra. Il ragazzo è stato soccorso nel centro storico e trasferito al San Martino. Troppo gravi le ferite riportate nello scoppio per salvare la falange. Sempre a Genova a causa dei fuochi artificiali è stato ricoverato anche un 21enne con un trauma agli occhi per un'altra esplosione. Feriti lievi nella notte a causa dei petardi anche a Rapallo e Bordighera. In molti casi dunque il divieto all'uso dei petardi previsto dalle ordinanze comunali è rimasto inascoltato. Tantissimi poi gli interventi per chi durante la notte di San Silvestro ha esagerato con l'alcol. Per il personale del 118 di Genova un continuo via vai dalla serata fino alle prime luci del giorno. Soccorsi soprattutto giovani. Stesse scene anche a Savone, Imperie e nelle altre località delle riviere. Decine e decine di ricoverati per l'abuso di alcol. Primo dell'anno per loro decisamente rovinato. E poi non sono mancate le risse. Alcuni casi a Genova con l'uso anche di armi bianche. Ferita la testa, le braccia e le gambe. Almeno 5 ricoverati solo nel capoluogo. Tanti casi ma nessuna situazione veramente grave. Insomma risse scazzottate da una notte da ubriachi. Ore di intenso lavoro anche per i vigili del fuoco impegnati a più riprese a spegnere gli incendi che si sono sviluppati a causa dell'uso improprio dei fuochi d'artificio. In fiamme soprattutto cassonetti, rifiuti, tettoie e qualche dehors. In tutta la Liguria si contano una cinquantina di interventi di questo tipo. In vico delle scuole pie, in centro storico a Genova e infine a causa di un petardo è andata distrutta una vetrata. La sanità. Sappiamo tutti che viviamo un momento complesso della sanità. Lo viviamo ovviamente per colpa del Covid che ha bloccato per alcuni mesi, per quasi due anni i nostri ospedali. Lo viviamo perché molti prima di noi hanno sbagliato con politiche come il numero chiuso all'università nel costruire quelle professionalità che servono al sistema e che ahimè occorre molti anni per formare. Se pensate che ci vogliono sei anni più cinque, sei di specialità per formare un nuovo medico parliamo di dieci, undici, dodici anni e lo stesso ormai gli infermieri altamente professionalizzati con un corso di laurea. Professionalità sempre più complesse come quelle dei tecnici sanitari per gestire le macchine che stiamo acquistando. Occorre modificare queste politiche e io spero che il governo ovviamente lo faccia al più presto, ma nel frattempo non restiamo con le mani in mano, stiamo costruendo le case di comunità in tutta la regione, stiamo attrezzando con i macchinari più moderni tutte queste case di comunità e tutti i nostri ospedali. Stiamo lavorando ad un sistema informatico, lo avete già provato con prenota vaccino, con prenota salute, che consentano ai cittadini di avvicinarsi sempre in modo meno difficile alla nostra sanità e a procurarsi le visite che servono. Stiamo investendo 50 milioni di euro per ampliare l'offerta sanitaria, ricordandoci sempre, lo dico a coloro che di mestiere criticano senza proporre soluzioni alternative che il sistema sanitario del nostro paese è il più ampio, diffuso, gratuito sistema sanitario d'Europa e uno dei primi del mondo. La cosa che voglio ricordare più di tutte è la decisione, ormai praticamente assunta da parte del Comune di Genova, di adoperarsi per la realizzazione di un termo valorizzatore a Genova. Credo che sia una scelta giusta, di coraggio, finalmente una decisione sul tema della gestione dei rifiuti, perché per troppi anni anche a livello regionale sia un po' tentennato su questo punto e io credo invece che per diminuire le tariffe, per dare una soluzione concreta, vera al tema della gestione complessiva dei rifiuti, questo sia un intervento assolutamente necessario e mi fa specie che cominciano a esserci posizioni contrarie da parte di certa sinistra, ma anche di azione. Io mi auguro che la Regione Liguria abbia come tutto il territorio nazionale un governo diverso da quello che c'è attualmente, un governo che ha fatto una legge di bilancio che aumenta le tasse, aumenta le tasse anche sulla casa, insomma cose davvero che non ci saremmo aspettati e spero per la Regione Liguria che ci sia una capacità di trasformare la sanità, perché i cittadini ne hanno veramente un gran bisogno, soprattutto in una Regione difficile, piena di anziani come la nostra, c'è bisogno di una risposta del servizio sanitario nazionale più adeguata e forte, i nostri ospedali devono funzionare e questo obiettivamente è un monito per tutti, soprattutto per chi governa la Regione, ma anche per il livello nazionale. Udire il loro lullato, a ridosso delle elegante case di Sant'Ilario, incute una certa soggezione. Il proliferare di lupi e il loro avvicinamento ai centri abitati sta diventando un'emergenza. Molti casi di predazione di bestiame, ma anche di cani di gatti assaliti, al Sassello, ad esempio, nel Savonese, ma anche a Genova, sulle alture fra Bavele e San Desiderio, dove un cane pastore di grandi dimensioni è stato divorato nel cortile di casa. Per questo, da due settimane, gli agenti del Nucleo Vigilanza Avenatore della Regione Liguria sono stati dotati di palline di plastica antilupo, proiettili di gomma che non possono ferire o uccidere e creano solo bruciature all'animale. Il fine è spaventarlo per indurlo ad avere paura dell'uomo. Il problema è che per colpire l'obiettivo bisogna arrivare ad almeno 30 metri, cosa però non facile con i lupi. Gli agenti regionali hanno già avviato le prime battute di caccia notturne con i pallini di gomma nei pressi delle case dove si sono registrate più predazioni, battute per ora senza successo. Andrea Marsan, zoologa e esperto di fauna selvatica dell'università, ammette che è necessario intervenire per frenare gli attacchi dei lupi, ma non genericamente contro l'intera popolazione, bensì contro quei pochi esemplari diventati confidenti e che creano danni predando cani e bestiame perché non hanno più paura dell'uomo. Marsan ammette che il dibattito sui lupi, come quello sui cinghiali, non è facile perché divide, crea oltre fra chi li difenda oltranza e chi invece li vorrebbe uccidere tutti. Serve invece equilibrio e selezionarli i lupi pericolosi che possono essere tenuti a distanza con recensioni adeguate, anche a poco prezzo. In caso contrario, i cani, se non sono maremmani o altri animali da difesa, è meglio custodirli in casa. Cani, inoltre quelli più esposti, che possono essere dotati di collari antilupo dotato di punte chiodate per limitare i danni degli attacchi sferrati alla gola. Come avete festeggiato quest'ultimo dell'anno? A casa, a casa. Tranquilli e così. Speriamo che l'anno nuovo ci porti a salute. La salute soprattutto perché vedo che intorno ci sono tanti guai. Siamo stati in famiglia, ovviamente uscire no perché pioveva, abbiamo fatto un po' di zapping in televisione, più che altro poi abbiamo sfruttato musica e poi a mezzanotte abbiamo stappato la bottiglia, non abbiamo fatto i botti perché siamo un po' anzianotti e basta. Cosa vi augurate per l'anno che arriva? Io spero serenità. Per Genova? Per Genova sicuramente tempi migliori, che non soffra, che non soffra la gente, che non soffra il porto, che non soffra noi altri, i lavoratori. Ci siamo divertiti in piazza con il concerto, poi da solo le due e mezza siamo incasati. Come siete? Di Bergamo, provincia di Bergamo. Siete venuti apposta per il Capodanno? Sì, sì, apposta per il Capodanno dal 30 e stasera ritorniamo. Come vi è sembrata a Genova in questi giorni? Molto bella, non l'avevamo visitata da bambini con l'acquario, ma adesso siamo tornati e merita veramente una visita di tre giorni almeno. Cosa vi augurate per quest'anno che arriva? Beh, un cambiamento sicuramente per la violenza da sotterrare in qualsiasi modo. Per Genova? Per Genova, a Genova vive un momento bello, ci sono tantissime cose che sono state fatte, tantissime altre che sono da fare, speriamo in un 2024 diverso. In realtà funziona tutto abbastanza bene, c'è stata la mostra di Artemiso Gentileschi, io uso sempre gli autobus per muovermi, sicuramente ci sono dei lavori da fare, adesso stanno facendo il waterfront, però non mi trovo così male. Vi ritrovate amici di Primo Canale, da Emma Parigi di Trebinete, una giornata di martedì 2 gennaio sulla Liguria di Ponente con tanto sole e clima relativamente mite per il periodo. Mentre tra Genova e Spezzino le nubi saranno compatte e consistenti, con anche locali precipitazioni nella seconda parte del giorno nelle aree più interne. Uno sguardo più in dettaglio cosa ci attenderà su ciascuna provincia, su Imperia splendera il sole, qualche nube di passaggio sarà possibile ma senza effetti, una condizione del tutto analoga anche su Savona. Sole sì, prevalente, qualche nube di passaggio ma senza effetti. Temperature massime un po' più contenute ma comunque gradevoli attorno ai 13-14 gradi. Uno sguardo a Genova, il territorio sarà soggetto all'affluire di aria umida responsabile di nubi compatte e consistenti e anche locali precipitazioni nelle zone più interne in serata. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigulio. Anche qui cieli grigi coperti ma senza conseguenti precipitazioni associate. Attenzione alla ventilazione poiché nel tardo pomeriggio sera si intensificherà dai quadranti meridionali sul Ligure, moto ondoso in conseguente aumento. Situazione analoga anche sullo Spezzino. Cieli grigi coperti, locali precipitazioni più probabili nella seconda parte del giorno, ventilazione vivace a tratti sostenuta in serata. La giornata di mercoledì vedrà ancora tanto sole sull'area diponente della Liguria. Difatti cieli serenitersi, mentre tra Genova e Spezzino insisteranno molte nubi e localmente saranno possibili nuovi locali fenomeni. Ulteriori dettagli in merito sulla nostra api gratuita Trebinetio. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS